Il Natale è certamente una delle più conosciute e delle più belle feste cristiane e naturalmente qui sono stato celebrato molto in gusto non solo da grandi compositori di professione ma anche di tanti grandi popolari, opere di semplici credenti che sono rimasti più delle volte sconosciute. Giro d'Orochi è la nostra comunità stasera, pur non essendo musica popolare del Natale riempota per questo momento il titolo delle festività ed è uno dei più centri grandi interventi del mondo musica è di ciò che è un interaggianetto di Frank Barnes. A voi, Giro d'Orochi! Giro d'Orochi! Giro d'Orochi! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!